Benvenuti ad una nuova puntata del format La Voce della Politica siamo in compagnia del Presidente del Consorzio di Bonifica Sinistra Sele Vincenzo Fraiese. Presidente, quali sono le attività che vuole mettere in campo i progetti che state effettuando su quello che è il territorio consortile? Allora, io vorrei innanzitutto puntualizzare una cosa che è molto importante io sono consigliere del Consorzio di Bonifica da parecchi anni credo e molte volte lo dico anche come garbadamente anche per darmi una certa importanza che poi diciamo a qualcuno può rimanere simpatica ad altri no però io dico semplicemente che sono il più vecchio consigliere del Consorzio di Bonifica e di questo mi sono grandemente onorato perché vuol dire che nel tempo i consorziati continuamente hanno avuto fiducia di me e quindi hanno confermato quel voto che mi hanno dato la prima volta e che io timidamente ho raccolto e credo di essermi sempre prodigato e messo a disposizione per il territorio e per i consorziati questo cosa voglio dire che già dall'inizio un poco alla volta ho compreso il funzionamento di questa meravigliosa macchina che si chiamano in generale Consorzio di Bonifica ebbene questi sono enti che sul territorio sovrindendono a tutto quello che succede in un certo senso sul territorio dal punto di vista idraulico e anche per altre attività quindi noi principalmente oggi i consorsi sono degli enti innanzitutto di autogoverno voglio dire sono retti da un consiglio di amministrazione e sono membri elettivi costituiti da membri elettivi e da membri istituzionali ma chiaramente i membri elettivi sono l'espressione dei consorziati di autofinanziamento perché ormai i consorsi di bonifica non prendono danari più da nessuno da nessun altro end superiore quindi i consorsi si debbono autofinanziare come si autofinanziano? innanzitutto attraverso la loro attività che sono i servizi nel nostro caso di irrigazione e di fornitura di acqua potabile perché questo ente gestisce anche un acquedotto acquedotto che tra l'altro ultimamente sta ristrutturando in parte e che poi attraverso propri progetti e che poi continuerà poi diremo dopo quindi ho voluto un momentino chiarire la natura dell'ente cioè ormai noi non siamo più un'ente credo io siamo un'azienda anche perché da quando io sono diventato presidente eletto prima volta nel 1990 quindi ho percorso tutte le strade di consigliere, deputato, vicepresidente sono presidente dal 2010 ebbene nel 2010 ho dovuto affrontare questa nuova come dire esperienza in modo diverso è un'esperienza che è molto gravosa con grandi responsabilità ma addirittura dal primo momento che mi sono insediato in particolare con il nostro ufficio tecnico che negli anni è stato trasformato in un settore capace di progettare e di portare avanti discorsi molto importanti per il territorio quindi io ho fatto un discorso molto aperto molto amicale con il dirigente innanzitutto e con tutti gli altri collaboratori nel senso che ho dovuto inoculare il germe della progettazione cioè se noi progettiamo abbiamo progetti pronti e cantierabili nel momento in cui ci saranno dei finanziamenti non saremo costretti a correre senza riuscire a fare niente ma semplicemente con progetti già pronti e cantierabili basterà solo assemblarli mettere in ordine le carte e presentare i progetti anche se poi all'ultimo momento c'è la corsa dell'affanno però in questi anni noi siamo riusciti a fare tantissime cose quindi abbiamo progettato abbiamo presentato i nostri progetti nei momenti opportuni e siamo riusciti anche a prendere finanziamenti e qual è stato il progetto più importante che avete portato a casa in questi anni? Allora noi abbiamo portato a casa una serie di progetti perché noi soprattutto progettiamo per migliorare i territori negli ultimi anni abbiamo fatto tutta una serie di progetti che hanno riguardato il territorio di Altavilla e precisamente riguardano l'irrigazione negli ultimi anni a iniziare dagli anni 80 si è pensato in modo diverso da come irrigare i campi perché noi avevamo un impianto a canaletta a caduta naturale che ormai era diventato vecchio obsoleto quindi perdevamo troppa acqua ebbene a seguito di questo cambiamento epocale di facimento di questa struttura e che poi ha cambiato totalmente perché prima era a scorrimento adesso è a pressione abbiamo innanzitutto recuperato il 50% della risorsa e poi grandi vantaggi sia per gli agricoltori che hanno ricevuto acqua nelle proprie aziende nelle singole aziende a pressione ma sia per la risorsa che è stata risparmiata che è stata recuperata al 50% che si perdeva ma addirittura non ci deve sfuggire il beneficio per l'ambiente perché per l'ambiente è importante per l'ambiente è importantissimo perché innanzitutto noi non immettiamo nell'ambiente più sostanze nocive perché prima gli agricoltori erano costretti a pompare quest'acqua per metterla in pressione quindi con l'ausilio di mezzi trattori motopombe eccetera che immettevano diciamo anidride carbonica e quant'altro nell'ambiente questo non succede più e l'altro aspetto da non trascurare è l'inquinamento acustico nel senso che prima noi avevamo tutti questi mezzi che come dire a tutto volume immettevano rumori nell'ambiente queste cose non ci sono più non esistono più quindi abbiamo reso l'ambiente molto più salubro di quanto era prima ma la sfida che ci siamo dati dopo con la mia presidenza e che già era iniziata veramente senza togliere meriti a nessuno perché noi dobbiamo essere riconoscenti per gli altri e per quello che hanno fatto la sfida era quella di continuare questo progetto nei comuni di Piana che erano vicini al comune di Capaccio cioè mi riferisco ai comuni principalmente di Altavilla e Serre e abbiamo continuato quest'opera oggi Altavilla ormai è sotto gli occhi di tutti in riga a pressione quindi l'agricoltura di Altavilla ha cambiato volto totalmente abbiamo quasi con gli ultimi tre progetti che abbiamo avuto finanziati abbiamo mandato in gare e in primavera apriranno i cantieri io credo che siamo quasi al completamento del comune di Altavilla ci siamo già rivolte a Serre con ulteriori progetti uno dei quali è andato già all'attenzione delle autorità che dovrebbero finanziarlo e quindi proseguiremo in questa storia un altro settore importantissimo al quale questa amministrazione si sta dedicando sono le energie alternative è una cosa importantissima io quando mi sono insediato ho dovuto affrontare molti problemi uno dei più gravosi è stato quello dell'energia abbiamo trovato un debito consistente che per fortuna con la testardaggine l'accanimento che ci contraddistingue dagli altri siamo riusciti a normalizzare in che senso siamo riusciti a fare una transazione con Enel molto vantaggiosa per l'Ender e che stiamo onorando stiamo pagando stiamo pagando il corrente e più questa transazione che abbiamo fatto in effetti quant'era il debito con l'Enel accumulato? io veramente non lo volevo dire ma lei mi ha fatto la domanda non posso fare a meno di rispondere si avvicinava quasi ai 10 milioni di euro quindi però devo dire noi siamo stati come dire molto determinati abbiamo fatto un discorso con Enel quindi alla fine abbiamo avuto un abbattimento di tutti gli interessi che si erano accumulati delle more e quant'altro e anche di una piccola sorta capitale quindi adesso noi oggi abbiamo rateizzato la sorta capitale che dovevamo pagare dovevamo all'Enel tutto questo tra l'altro ci ha portato grandi vandaggi ma perché? perché noi eravamo parcheggiati in una con una tariffa in una situazione con una tariffa capestro che era molto esosa quindi da luglio l'anno scorso noi siamo andati sul mercato libero abbiamo ricontrattato i nostri contratti e che l'abbiamo fatto poi con Enel stessa abbiamo avuto grandi vandaggi poi anche risparmi economici soprattutto tanti vandaggi e risparmi economici tanto è vero che dal bilancio di previsione che noi puntualmente facciamo nei tempi che cosa si evince? si evince da questo bilancio che abbiamo avuto quasi a parità di consumi perché abbiamo avuto anche qualche risparmi per una corretta come dire utilizzazione dell'energia abbiamo avuto anche risparmi rispetto a questo ma soprattutto abbiamo avuto risparmi per una tariffa cambiata e perché siamo andati sul mercato libero abbiamo ricontrattato le nostre tariffe e abbiamo avuto un risparmio di oltre un milione di euro ma non è poco questo guardate oggi sono soldoni tenete presente che noi abbiamo un consumo Enel normale annuale di circa 4 milioni di energia quindi ne abbiamo risparmiato uno quest'anno siamo a 3 milioni a qualcosa quindi è un obiettivo che ci eravamo posti lo abbiamo raggiunto quindi siamo come dire appagati di questo risultato questa è una cosa che i consorziati debbono sapere colgo l'occasione e questa è una cosa importante perché quest'anno il 2014 e lo sto dicendo già da parecchio ai collaboratori e a quant'altro sia agli amministratori che ai nostri dipendenti che collaborano con noi collaborano tutti veramente questo deve essere l'anno della razionalizzazione di tutte le nostre cose si era perso un po' con questa natura voglio fare un appello ai nostri consorziati ai nostri agricoltori che usano gli strumenti che sono messi a nostra disposizione e a loro disposizione allora io dal 2010 una delle prime cose che ho fatto sollevando anche un poco di scetticismo inizialmente è quello insieme chiaramente all'amministrazione perché io non faccio niente se l'amministrazione e tutti gli amministratori che vogliono prendere parte attivamente a tutte le nostre cose informo io quotidianamente tutte le novità io le passo subito allora io avevo fatto delle considerazioni mie personali e dicevo visto che abbiamo recuperato la risorsa idrica perché mettere in come dire in difficoltà le aziende attraverso i turni rigui quindi dobbiamo fare qualcosa per limitare per eliminare i turni rigui o comunque limitarli ebbene quando per la prima volta ho comunicato queste idee e come dire ho incominciato a sviscerare innanzitutto con l'organo politico che sono i nostri consiglieri amministratori insomma inizialmente suscitava un poco di incertezze ma poi bando agli indugi abbiamo applicato e abbiamo abolito i turni rigui ebbene noi dal 2010 al consorzio di bonifica non si fanno più turni rigui perché oltre al fatto di aver recuperato la risorsa abbiamo limitato anche gli interventi di irrigazione perché l'agricoltore verso natura quando ha la risorsa a disposizione la utilizza ma la utilizza di più quando ha l'incertezza cioè io faccio il turno poi se succede qualcosa poi non posso irrigare quindi ma quando l'agricoltore è tranquillo applica alla perfezione le buone pratiche agronomiche e tra queste l'irrigazione quindi noi abbiamo avuto diciamo oltre al risparmio del del al recupero del 50% della risorsa abbiamo avuto un risparmio anche durante l'esercizio irriguo però non basta ci sono ancora alcuni consorziati che non fanno buon uso della risorsa nel senso che la sprecono allora quando io dico che questo sarà l'anno che dobbiamo razionalizzare i nostri sistemi e tutte le nostre cose mi riferisco sia alla irrigazione sia all'acqua potabile anche per l'acqua potabile dobbiamo essere parsimoniosi e addirittura per quanto riguarda le nostre attività l'uso corretto dell'energia ed è importantissimo avevamo parlato stavamo iniziando a parlare di energia alternativa allora l'ente nel tempo con finanziamenti pubblici si è dotato già di impianti di questo tipo e precisamente impianti fotovoltaici nel senso che prende energia pulita dal sole questa amministrazione ha progettato già delle centraline idroelettriche e che il prossimo mese presenteremo per finanziamenti perché ormai abbiamo completato sia i progetti che abbiamo acquisito le autorizzazioni ma addirittura credo che a brevissimo ci doteremo di una pala eolica quindi l'ente vuole sfruttare tutto quello che riguarda l'energia alternativa eolico fotovoltaico e quant'altro ma non disdegna è da tempo noi stiamo facendo degli studi particolari delle ricerche incontri per rivolgersi verso le biomasse è una cosa molto importante perché servirebbe a dare un ulteriore impulso e alleviare molti disagi che ci sono su questo territorio che riguardano la zootecnia riguardano tantissimi altri settori perché queste sostanze potrebbero essere usate per creare energia cioè un disagio potrebbe diventare ricchezza o meglio lo deve diventare perché bisogna percorrerla questa strada è il futuro io magari colgo l'occasione presidente per invitarla ad una nuova puntata e parlare proprio di questo quindi di questo progetto che state mettendo in atto anche per far capire pure ai telespettatori che questi non sono progetti da condannare ogni volta che si parla di questi diciamo impianti di riciclo c'è sempre un po' di scetticismo però magari conoscerli bene anche nel funzionamento e quelli che sono i vantaggi che possono adegare sicuramente insomma aiuta quindi io la ringrazio per aver preso parte alla puntata e ringrazio tutti i telespettatori ci vediamo alla prossima Musica Grazie a tutti.